La scuola materna di Arco ha avviato dall'insediamento del nuovo direttivo una serie di iniziative che hanno lo scopo di avvicinare i genitori dei bambini alla struttura e alla gestione dell'asilo. Una di queste si è svolta qualche giorno fa. Un numeroso gruppo di genitori ha pensato bene di fare una sorpresa ai bambini dando vita nella palestra della scuola ad vita per l'occasione a teatro ad una rappresentazione avente come tema il circo. Abbiamo intervistato la presidente della scuola e i genitori per tracciare un bilancio dell'iniziativa. Un'iniziativa quindi che è andata molto bene e che si ripeterà. Esatto, questa iniziativa è andata benissimo, è stata apprezzata dalle maestre, dai bambini e dai genitori che hanno contribuito a fare questa attività. Noi speriamo che il prossimo anno aumentino i genitori, aumentino anche i nonni che li avevamo presenti anche quest'anno e che in futuro in questa scuola dell'infanzia il genitore e i nonni possano essere parte attiva. Infatti ci teniamo insomma che queste manifestazioni vengano fatte all'interno di questa scuola perché è importante far parte di questa realtà tutti insieme. Genitori che hanno recitato e bambini spettatori, come hanno vissuto entrambi questa esperienza? Ma riguardo ai genitori c'è stato davvero un entusiasmo che via via è sempre più cresciuto. Io parlo naturalmente dagli inizi, dalle prove per questa recita. abbiamo scelto il tema del circo e questa rappresentazione che abbiamo voluto portare in scena l'abbiamo intitolata il circo all'incirca. I genitori hanno davvero mostrato un entusiasmo, hanno prodotto materiali, oggetti per la scenografia, niente. Quindi tutto questo ha contribuito alla buona riuscita della scenetta. Non è il primo anno che noi facciamo questo tipo di rappresentazioni. Già due anni prima abbiamo portato in scena durante il Natale due altri spettacoli. Quindi diciamo che la formula di coinvolgimento con i miei genitori è davvero vincente. Ecco io ho notato la mia più grande soddisfazione è poi vedere come i bambini hanno vissuto queste emozioni. Quindi alla fine il feedback che abbiamo avuto è veramente stato notevole. Quindi per noi diciamo in fondo il nostro motto è quello di divertirsi e far divertire. Diciamo che ci siamo riusciti in questo intento. Io voglio ringraziare i genitori che hanno saputo dedicare tempo ed energie a tutti i bambini della scuola e soprattutto creando dei momenti di grande entusiasmo e partecipazione. Colgo l'occasione di invitare tutti i telespettatori di Telegarda a donare alla scuola di infanzia di Arco il 5 per 1000 per la sistemazione del nostro giardino ricordando che i bambini sono un patrimonio della società e che vanno quindi aiutati a crescere in modo armonioso e sereno. Grazie.